lunedì 22 gennaio dal vangelo secondo marco gli scribi che erano scesi da gerusalemme dicevano costui è posseduto da bel zebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni ma egli li chiamò e comparabile diceva loro come può satana scacciare satana se un regno è diviso in se stesso quel regno non potrà restare in piedi se una casa è divisa in se stessa quella casa non potrà restare in piedi anche satana se si ribella contro se stesso ed è diviso non può restare in piedi ma è finito nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega soltanto allora potrà saccheggiarli a casa in verità io vi dico tutto sarà perdonato ai figli degli uomini i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo non sarà perdonato in eterno è reo di colpa eterna poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro oggi la parola ci porta in un campo un po minato e che magari ci può anche fare paura quando si parla di diavolo di demonio di satana siamo sempre un po guardinghi forse perché abbiamo nella mente tanta letteratura cinematografica a riguardo in realtà la parola diavolo significa separatore satana accusatore sostanzialmente l'opera del male è sempre un'opera di divisione cioè ci separa dagli altri ci separa da noi stessi cioè ci lacera interiormente e ci porta lontano ci separa da dio dunque questa parola prima di tutto ci pone un grande interrogativo ma tu nel profondo del tuo cuore di chi sei e chi a chi appartieni a volte noi viviamo tante vite dentro di noi viviamo dietro a una cosa un'altra tante dimensioni spesso ci mostriamo con volti e con storie diverse quasi a dar credito no a pirandello che diceva che dentro di noi uno nessuno centomila in realtà questa parola ci invita ad essere di uno solo del signore solo suoi di per sé noi dal battesimo siamo di dio e di nessun altro poi si tratta di aderire con tutta la nostra vita quotidiana a questa grande identità allora è una parola che ci porta ad essere delle donne degli uomini tutti di un pezzo fatti di una sola cosa puri nel senso vero di questa parola solo di dio solo suoi apparteniamo a lui e noi siamo chiamati ad andare costantemente nella nostra vita quotidiana con questa grande identità senza ascoltare tutte le altre voci e suggestioni che ci fanno credere dell'altro e poi c'è questo discorso finale legato alla bestemmia contro lo spirito santo questa parola una grande e grande consolazione tutto sarà perdonato agli uomini tutto il che non è il lascia passare per avere una vita spregiudicata no no ma è una grande consolazione il signore sa bene di che pasta siamo fatti siamo polvere poca cosa ma nello stesso tempo impastati di soffio di vino tutto sarà perdonato agli uomini ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo cioè credere che dio non può compiere ogni bene anche nella nostra vita bestemmiare contro lo spirito santo vuol dire non credere totalmente all'opera di dio in noi e a credere piuttosto a tutte quelle voci maligne che ci fanno pensare male di noi stessi che ci fanno screditare la nostra vita agli occhi di noi stessi o agli occhi degli altri bestemmiare contro lo spirito santo vuol dire in definitiva non avere una totale fiducia nei confronti dell'opera di dio è una parola di grande consolazione noi siamo chiamati a non dubitare mai della potente azione dello spirito santo nella nostra vita seguire lui in ogni momento aderire a lui perché risplenda sempre di più quella meraviglia che è la nostra vita così come la pensata creata e voluta il buon dio che nei cieli